La chiesa di Santa Maria di Centurelli di Caporciano ha ospitato la cerimonia di conferimento del giusto fra le nazioni. L'onoreficenza, la massima nello Stato di Israele, viene concessa a quei cittadini non ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare anche un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah. Il presidente di Pangrazio, presente alla cerimonia, ha lodato l'eroismo dei due giusti abruzzesi, Natale Conte e Maria Baiocco. I coniugi, ricorda di Pangrazio, salvarono diverse vite umane durante una delle più grandi tragedie della storia contemporanea. Un gesto eroico che ci rende orgogliosi perché compiuto da due aquilani. La cerimonia si è conclusa con la consegna della medaglia del giusto fra le nazioni ai parenti della famiglia Conte, mentre Giulia Fleischmann, una delle parenti dei salvati, leggeva con emozione le pagine del libro Un ragazzo ebreo nelle retrovie che ricordano quei giorni durissimi per gli ebrei e per chi, anche in Abruzzo, decise di stare dalla loro parte.